Allenamenti spirituali I monasteri Zen adottano il Kensui, un metodo di istruzione al risveglio spirituale che in apparenza è molto severo, mentre è l'espressione della grande misericordia del maestro nei confronti del discepolo, che è stimolato ad indagare a fondo le proprie intime potenzialità. Kensui in giapponese significa pinza e martello da fabbro. Commento Gli allenamenti spirituali muovono di poco la nostra evoluzione, che per avvenire ha bisogno di esperire le vite.